Shannon Dorthy, conosciuta per il suo ruolo iconico di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, sta affrontando una battaglia coraggiosa contro il cancro al seno in fase avanzata. Attraverso un video condiviso su Instagram, condiviso con i suoi fan il desiderio di ripulire casa per alleviare il carico della madre, una volta che lei non ci sarà più. A gennaio l'attrice aveva rivelato che il cancro si era diffuso al quarto stadio coinvolgendo anche il cervello e le ossa. Ora il suo impegno è rivolta al benessere futuro della sua famiglia. Con determinazione e forza d'animo Dorthy affronta questa sfida con una prospettiva di lungo termine, dimostrando il suo amore e la sua preoccupazione per coloro che le sono vicini. La mia priorità ora è mia madre, so che sarà difficile per lei se dovessi morire prima di lei, sarà difficile, quindi voglio che tutte le cose le risultino facili. Non voglio che abbia un mucchio di cose da affrontare dopo la mia morte, non voglio che abbia contenitori pieni di mobili. Le parole riportate da Pagesix. L'attrice ha così deciso di esaminare tutti i suoi oggetti e mobili in caso per donarli o venderli. In Tennessee stavo impacchettando tutto in una delle case. È stato difficile ed emozionante, mi sentivo come se stessi rinunciando al sogno di costruire questa proprietà, di costruire una casa per me e una per mia madre, poi di ampliare la stalla. E mentre facevo le valigie ho iniziato a piangere, mi sentivo come se stessi rinunciando a un sogno, significava che stavo rinunciando alla vita, che gettavo la spugna e mia madre era lì, diceva, non liberarti di questo posto va bene così. La decisione di vendere la proprietà però l'aiuta lasciarsi alle spalle una transizione più pulita e facile per la sua famiglia.